Campionati regionali Lombardi, siamo con la medaglia d'argento che è Filippo Giurdan Pagan Griso, siamo con i Children, come è stato il tuo campionato? Abbastanza bene, il primo giorno avevo fatto un errore, però ero andato abbastanza veloce ed ero arrivato quinto, poi il secondo giorno avevo fatto zero ed ero risalito terzo, oggi ho fatto doppio zero e sono risalito secondo Il tuo cavallo, ci parli di lui, dove l'hai trovato, come l'hai trovato? Me l'ha prestato la sua proprietaria che monta da mio padre, me l'ha prestato per fare le gare perché non avevo più cavalli da montare e ho iniziato a settembre a fare le prime gare, partendo dalle 115 fino a riuscire a prendere il primo grado e fare questi campionati Perfetto, senti, dove sarai la prossima settimana? Cosa farai ancora? Penso di andare a fare il progetto Giovani fra due settimane a Manerbio e poi andrò a settembre a fare i campionati italiani sicuramente e poi non lo so, sceglieremo Perfetto, grazie mille, complimenti Prego, grazie